e benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi ragazzi siamo su pocket football che è praticamente rocket league matarocco e appunto prima di farvi mostrare il gioco naturalmente per android cioè vi dico oggi mio nonno ha proposto di fare tipo una gita a palco fornistico le cornelle c'è praticamente ragazzi a un certo punto adesso vi faccio anche vedere è sceso una grandinata che infine dalle sedie del bar sotto l'ombrellone ci siamo spostati abbiamo spostato i tavoli ci siamo messi sotto dopo abbiamo corso fino a cose dei souvenir e siamo andati lì però vi prima vi faccio vedere guardati due perché inizio ha cominciato a grandinare wow a pioveva però lo devo fare così sperando che non mi si blocchi scusate allora vi dicevo vi faccio vedere vedete una grandinata noi eravamo seduti nei tavoli lascio vedere il mio fratello in sottofondo però vedete chicchi di gradine grossi tipo palline da golf erano cioè se ti arrivano sulla spalla ti fanno male cane cioè abbiamo passato tipo mezz'ora ma anche tipo un'oretta così fino a dove andate a quel logo la illuminato siamo andati da sotto cioè man mano aumentava l'intensità al posto che diminuire vi lascio vedere il gelo era tutto coperto praticamente non si vedeva non si vedeva non si vedeva per niente niente in cielo e grandinava adesso si è bloccato il video un attimo vi faccio vedere quanta grandi no che dopo qua adesso ci siamo abbiamo spostato il tavolo adesso non l'avete visto ma ci siamo messi sotto tra i due tavoli c'erano l'ombrellone ci siamo messi sotto comunque ragazzi a parte questo c'era ragazzi una roba possiamo dire incredibile adesso se il mio telefono vuole muovere la vi faccio vedere pocket football adesso se si gira la spero ragazzi di portarvi la intro a rimetterci la il problema possibile perchè come sapete ultimamente non riesco più a metterla perchè mi seguo e lo sa per chi non mi seguo ragazzi iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su nuovi giorni stanno sul resto adesso uscirà anche se io sono già livello 8 ragazzi ce lo faccio vedere dall'inizio faccio vedere appunto dove sono io qualche un po' di episodi su pokemon go e vabbè qua abbiamo lasciato sbloccano ogni tot vincite io tengo anche questa ci sono i tornei adesso noi facciamo solo una partita facciamo l'Italia fate go e dopo incendono i miei di sale cliccate su tap to start adesso vedete che i testi si illuminano quelli che dovete cliccare adesso non so ma mi lagga questo salta e questo qua è turbo adesso mi lagga da bestia anche se non va a internet vabbè esegol per la squadra avversaria oh che gol guardate gol la palla una volta va a destra una volta a sinistra poi torna a destra veramente una volta sta al centro una volta non sto mai fermo come dovrebbe e se mentre che il regista lagga ma di norma giocano lagga eh si più o meno hanno copiato lo che hanno preso tipo le mani quelle del ego scolini non la parano bene gol si può scegliere anche nella partita singola 5 nel posto che 3 o se non si fa 1 contro 1 2 contro 2 3 contro 3 si massimo per un massimo di per un massimo di 5 gol adesso dove dove comunque ragazzi il gioco è così è anche bello però che figlio dopo non lo batte nessuno ragazzi no dai l'ho mancata un consiglio non non curvate mentre state frenando perché l'auto sbanda già sbanda di suo vedete avete la bandiera sul campo per riconoscere la squadra vediamo se l'auto è troppo lontana turbo adesso abbiamo esagerato 2 pari se la prendete giusta all'inizio è gol subito come avete già visto no speravo di fare un gol tipo rapido ma non 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 ce l'ho fatta dov'è la palla vabbè ops registrazione se non so più se è scisa dunque ragazzi stavamo dicendo perché meno uno spero sia tutto posto ragazzi non posso modificare niente se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate qua sotto per consigliarmi i giochi anzi devo ancora andare a scaricare i giochi che mi avete consigliato in sezione prossimo video sarà trucchi mcp che è master per minecraft che già dovevo già fare ma non l'ho fatto ragazzi mi spiace a tutti a parte questo iscrivetevi per sapere dei nuovi nuovi giochi che proviamo insieme su playstore che stanno su playstore niente iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e noi ci vediamo con un nuovo video bella ragazzi grazie grazie